Emesso un decreto di sospensione della licenza ex articolo 100 del TULPS per sette giorni da parte del questore di Caltanissette Emanuele Ricifari nei confronti del titolare di un bar ubicato nel centro storico di Gela. Il provvedimento, arrivato a seguito dei diversi controlli di interventi eseguiti dagli equipaggi del commissariato di pubblica sicurezza, sarebbe stato emesso per evitare che il bar continui ad essere abituale al ritrovo, si legge nella nota, di persone che possano costituire pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Grazie